Visita nel Salernitano per l'ex presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini. L'esponente di Leu ha visitato la sede dell'Arcigay di Salerno, vandalizzata dai gnoti pochi giorni fa, ed ha partecipato ad un convegno sulle parità organizzato dalla Fondazione Mare Nostrum. Un'occasione per fare il punto sull'attuale situazione politica italiana. Io dico che quel decreto che legge sicuramente va a smantellare tutto quello di buono, e non era tanto che abbiamo fatto in termini di integrazione, va a aumentare il numero degli irregolari, ci saranno altri 130-140 mila persone che oggi sono regolari a diventare irregolari, e questo va solo incontro alla necessità del vicepresidente del Consiglio Salvini che ha bisogno del caos, ha bisogno di creare la contrapposizione perché solo così manifesta la sua esistenza in vita. Per il resto ogni sbarco per Salvini è la manna dal cielo, perché così può nascondere tutte le carenze della sua azione da ministro, visto che in Italia sta succedendo di tutto e lui su tutto il resto che non sia immigrazione non fa e non dice, e su questo punto direi anche che trovo veramente preoccupante come abbia derubricato le bombe che a Fragola sono esplose negli ultimi giorni come azione di balordi. Di fronte a tutto questo non c'è un'azione, non c'è nessuna risposta alla criminalità organizzata, nessuna risposta alle inefficienze quando ci sono, ma l'unica cosa che il ministro fa quando una mattina viene ammazzato a Roma, al quartiere della Magliana, una persona davanti a un asilo nido, in quella circostanza il ministro parla dei migranti, dei 49 a bordo della Sea-Watch. Allora è evidente che tutto questo sia una maschera per coprire le inefficienze e perché? Perché non sta dando sicurezza agli italiani. Siamo in emergenza sicurezza in tante località d'Italia, ma il ministro Salvini ha in testa solo una cosa, i migranti, perché i migranti sono le sue galline dalle uova d'oro. Senza di loro lui non sarebbe ministro.